Quarti di finale di terza categoria, la Mucca che vince si qualifica per la finale regionale. Per il numero 32, Vespa di Vertui Ivan, contro il numero 721, Tiki dell'Asia Ernesto, e il numero 659, Penson di Maché Manuela, contro il numero 6, Dorsi di Filar Sorin. Grazie a tutti. Lo 32 che entra in campo, attendo il numero 70. Grazie. 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 6, la 112 suri 534 e la 159 penson pesa 546 kg. Musique Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il numero 159, Penson, reina di terza categoria l'anno scorso, Aschallan. Il numero 121, reina Gressonei l'anno scorso, di terza categoria. E nel 2021, seconda credente. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Contro a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. grazie a tutti. 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 tutto il nostro pubblico. tutto il nostro pubblico. a tutti. a tutti. le gagne all'onimo. ostante. Mora. D'artà Dario. Chi se classifica per la finale regionale. Secondo avance è classificato la famiglia Artà Città. Grazie a tutti. 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 domenica prossima. ultima eliminatoria. Grazie a tutti. 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 alla finale regionale. Diamo il benvenuto anche a tutti gli amministratori regionali e comunali e gli chiediamo se si possono presentare davanti al camion della giuria per la remise dei prix. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per Chandler, mi dai una mano per la box. Grazie a tutti. 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 . a tutti. 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 a tutti.